L'ardita è di tutti noi soci, di tutti gli allievi, l'ardita è un luogo dove comunque facciamo tanto sport, appartiene a tutti, a tutti i cosiddetti, io li chiamo i grigio-rossi perché i nostri colori sociali sono i grigio-rossi. L'ardita è anche calcio e tennis con quest'altra società, diciamo, gemella che abbiamo creato ad hoc che è l'ardita calcetto e tennis Nervi. Abbiamo un campo polivalente per i due sport, nel calcio, calcio a cinque, abbiamo tre squadre che vengono nel nostro campo a svolgere i campionati di calcio Liguria e di federazione gioco calcio che sono il Deportivo Nervi, l'Atletico Magari e l'Atletic altri, comunque, insomma, sono queste tre società che vengono, che noi ospitiamo per le loro partite in casa. Abbiamo poi tutta una serie anche di incontri, di partite tra amici, tra scapoli ammogliati, come si diceva una volta. Insomma, è un campo aperto a tutti per divertirsi, per venire a giocare, un campo di nuova generazione, un terreno che abbiamo ristrutturato nuovo completamente da un anno e mezzo, ma poi, di fatto, l'ultimo anno non è stato usato per i lavori della scuola. Quindi è comunque un campo nuovissimo e abbiamo poi anche creato la possibilità di campo da tennis e qui viene utilizzato, al momento abbiamo un po' in stand-by alcuni accordi con società già esistenti per creare delle scuole tennis proprio da noi all'ardita, al momento è utilizzato comunque anche lì per partite tra amici, sia di doppio che di singolo, quindi è comunque utilizzabile attraverso una prenotazione al numero telefonico dell'ardita che trovate sempre ovviamente sul sito o comunque su Google dell'ardita Juventus, che è il circolo sportivo e lì avete quindi la possibilità di prenotare in qualsiasi momento, a qualsiasi ora, il campo è sempre a disposizione degli utenti. Ricordiamo con esattezza dove si trova? In via Seragropallo 6, sempre a Genova Nervi, Capolungo, confinante col Museo della Wolfsoniana.